Buonasera a tutti, volevo comunicarvi una cosa, una cosa a tutti i soci che sono presenti stasera e noi a fine dell'anno festeggiamo il video di Capodanno con un buffet a base di pesce e carne e chi vuol partecipare a fine dell'anno noi, ciao benedetti, auguri a tutti, buonasera a tutti Grazie